La città di Belluno festeggia il suo patrono, San Martino, dopo un lungo periodo di sacrifici, incertezze e restrizioni, è stato celebrato a dovere attraverso i classici momenti che da sempre caratterizzano l'11 novembre bellunese, in primis la Santa Messa in cattedrale ufficiata dal Vescovo Renato Marangoni, che all'Omelia ha immaginato il Santo di Tours ai giorni nostri in un mondo che sta attraversando una grande crisi abitato da un'umanità divisa da contrasti e divergenze d'opinione. E San Martino ci scopre tremanti per il risvegliarsi in noi di un'istintività conflittuale che ci sta schierando gli uni contro gli altri, anche nelle piazze. San Martino getta il suo sguardo su di noi e si impietosisce, non indugia e strappandosi di dosso il mantello che lo rendeva fiero e imperioso, ci scombina, mettendo nelle nostre mani parte della sua dignità, della sua fierezza, del suo calore, della sua speranza, del suo aspirare a un bene che sia per tutti e di tutti. La giornata è proseguita al Teatro Comunale, dove si è tenuta la tradizionale consegna del Premio San Martino. Il riconoscimento viene assegnato dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale a un bellunese che si sia distinto per le sue opere a favore della collettività e l'assegnazione quest'anno è stata doppia. Giorgio Zampieri, anima del volontariato locale, ha ricevuto in via ufficiale il premio che per ovvi motivi non aveva potuto ritirare nel 2020. L'edizione di quest'anno invece ha visto protagonista lo studioso Aldo Villabruna, una personalità che ha operato in diversi ambiti, da quello della cultura con la sua proficua attività di archeologo a quella del volontariato. Ho sentito tanti aggettivi che non so se fossero tutti divolti a me, ma sicuramente non me li merito tutti, anche perché da solo non avrei combinato proprio niente. È perché sono stato fortunato e privilegiato di avere tanti, tanti, tanti amici, alcuni dei quali oggi avrebbero dovuto essere seduti qui, ma non hanno potuto esserci, però sono residenti qui. Questo è il decimo anno che ho l'onore di consegnare il Premio San Martino a due persone straordinarie e oggi si celebra la festa dei bellunesi, la festa dei bellunesi e la festa di San Martino nella quale non soltanto individuiamo persone a cui noi siamo molto grati, ma in qualche maniera individuiamo delle persone che rappresentano un esempio nelle nostre vite quotidiane. La comunità bellunese è forte ed è una comunità attenta, è una comunità molto attiva, molto reattiva, anche perché ha la grande fortuna di avere degli esempi, dei simboli così importanti e un mino stupendo di San Martino.